Buonasera a tutti dalla 51 Club, questa sera ragazzi c'è un felice d'amico più scatenato che mai, si salvi chi può, è con lui la strepitosa voce di Morena Scolese e DJ Francesco. Buonasera a tutti. 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 Veramente una delle voci più belle che abbiamo mai sentito in zona. Grazie a tutti. 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 meglio. Sabato prossimo, quindi sabato 25, Hot Steps, quindi pop internazionale, soul, funk e disco 70-80, tutto al vivo, 5 musicisti bravissimi, che sono gli stessi musicisti che vanno in tournée col chitarrista degli stadio, quindi insomma tanto di garanzia. Poi il primo sabato di marzo, lo anticipiamo già, abbiamo i Supalova Quintet, che sono un gruppo di formazione nuova che fa tutto funk 70-80 e anche disco 70-80 con un DJ, una voce femminile e 4 musicisti, quindi tutto molto 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 bello, un regolatorio infinito proprio perché loro hanno la possibilità di spaziare tra i live e la discoteca con il DJ, quindi sarà una serata sicuramente divertentissima. Niente, diciamo soltanto questi appuntamenti per ora, poi diciamo che per il resto della settimana siamo sempre a disposizione per feste private, basta contattarci, basta venire a fare un preventivo e noi ci mettiamo a disposizione, cerchiamo di accontentare. Cene aziendali anche. Cene aziendali, convegni, tutto quello che può servire, basta contattarci e noi ci mettiamo a disposizione. Ricordiamo che l'Al 51 è su due livelli? Al 51 Club è su due livelli, quindi c'è un livello un po' più al centro per chi è più interessato a divertirsi e a ballare, c'è anche un piano superiore che non è isolato, però comunque è un po' più tranquillo, è una facciata, quindi diciamo è un po' più tranquillo, però comunque la musica si sente, lo spettacolo si vede. C'è un maxi schermo di 6 metri per 2 che è adattissimo alle videoconferenze, adattissimo alle proiezioni, a vedere il stress di notte, si può fare tutto, si può fare tutto. Assolutamente, sì, allora al 51 soprattutto si mangia bene, questo lo dico io perché sono una mangione. Stasera abbiamo fatto un esperimento, gnocchi alla Carminuccio, in omaggio alla grande pizzeria Carminuccio, alla sua ricetta, alla sua pizza buonissima, abbiamo fatto gli gnocchi, poi io e Pellegrino abbiamo fatto fare un'eccezione allo chef, ci siamo mangiati gnocchi alla fonduta di gorgonzola con granella di notte, di ciffoni, molto molto buoni. L'ha mangiata pure Enzo? Sì, in cucina l'ho fatto andare a mangiare perché non avevamo tavoli. Ma per questo io pensavo che non stesse mangiando, mi ero preoccupata, dicevo mangiati la mia pizza, l'aveva già mangiato. Ha mangiato mezz'ora prima di te, ha mangiato. Ma sei un pinocchio! Mannaggia, mannaggia. Ha visto la foto che ho postato su Facebook degli gnocchi al gorgonzola? Devo dire la verità, secondo me troppo noi usciamo perché non ci stiamo cominciando a avanzare già perché i nuovi si sono seduti al tavolo. La mia soddisfazione stasera è vedere il sudore sulla fronte di Rosario. Ah perché è una consolazione, non sudi solo tu, dai! Sono contentissimo di questa cosa! Un giorno riuscirò a sudare anch'io! Voglio vederti sudata! A me ci vuole mezz'ora di corso per cominciare a sudare minimo! Ci riuscirò! Ci riuscirò! Arriverò qui correndo dal centro di Salerno, vedrai che starò bella sudata! No, dai ragazzi! No, no, no! Diciamo anche che questa serata è stata fatta in collaborazione con Le Monelle, quindi Anna Fiorillo e Mena Cavaliere che ringraziamo pubblicamente, la salutiamo! Che ci hanno portato tanta bella gente, che sta mangiando e si sta divertendo. Ormai la collaborazione è nata da parecchio tempo e speriamo che continui ancora per parecchio tempo. Info line! Allora 3478013719, 089273728, pagina Facebook Al51Club, sito ufficiale www.al51club.com, poi siamo su www.scoprisalerno.it, www.salernolocali.com e www.sersdinotte.it. Ok, abbiamo detto tutto! Grazie a tutti! 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 amore, no, il più grande amore no, comunque un amore, un bel amore che hai vissuto e che rivivresti. Quello che sto vivendo. Ecco, lo sapevo. Vabbè, ma... Che cacchio glielo domanda? Non hai inventato questa domanda, Pellegrino? Sì. Che intelligenza sovrumana proprio, eh? Dai, ma è vero, dai. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. C'è il chiacquericino. Infatti tra poco si sposa. Sì. L'hai fatto la proposta di matrimonio? No, ancora no. Poi si vedrà, ma c'è tempo. C'è tempo. Siamo giovani, siamo giovani e presti. Che a tempo non cerchi altri, sai altro tempo. Stai facendo sudare ancora di più con questa cosa. Devi sudare, devi fare la proposta. Va bene, la faremo in diretta, va bene? Ah, bravo. Quando? Non lo so, poi quando la faremo vi farò venire, quindi lo saprete per tempo. Ok, va bene, va bene. Allora aspetteremo con ansia. Un bacio a tutti dalla 51 Club. Ciao. Ciao.